Oggi parliamo di Marianne Brandt, una donna coraggiosa, forte e indipendente. Tra qualche anno diventerà una dei designer più innovativi della Germania e tassello vitale per la sopravvivenza della scuola di design più famosa della storia. Siamo nel 1917 e Marianne ha appena concluso i suoi studi artistici che comprendevano scultura e pittura. Decide così di entrare al Bauhaus, ovvero la prima scuola di design della storia, fondata da Walter Gropius, il quale afferma «Non ci deve essere alcuna differenza tra il sesso più bello e quello più forte». La scuola era infatti aperta a entrambi i sessi e aveva forti aspirazioni progressiste. Il Bauhaus era moderno e libertario, ma era comunque vittima della mentalità fortemente maschilista dell'epoca. Alle donne che riuscirono a entrare venne infatti impedito di accedere ai corsi ritenuti molto più importanti, quale pittura, incisione e design industriale. Furono invece dirottate verso altri laboratori, quale ceramica, laboratorio tessile e rilegatura dei libri. E così inizialmente Marianne si ritrovò a frequentare il laboratorio tessile. Ma lei non demorde. Nel 1923, dopo che Walter Gropius ha fatto un paio di cambiamenti nel corpo docenti, riesce ad aprire, effettivamente nella pratica, anche tutti gli altri laboratori alle donne. Marianne decide quindi di seguire il corso di laboratorio del metallo. Questo laboratorio è caratterizzato da una notevole sperimentazione in ambito formale. Che dire, 5 secondi aveva già progettato alcune delle icone più fondamentali per il Bauhaus, come la piccola teiera in ottone argentato e legno debano, ma anche il posacenere in ottone parzialmente nichelato. Questi prodotti si distinguevano per l'utilizzo di forme primarie, sfera, cerchio, cilindro e la combinazione di materiali diversi. Il punto di arrivo della ricerca formale compiuta in questo laboratorio fu l'estrema funzionalità dei prodotti e la rinuncia dell'arte fino a se stessa. Vi è la ricerca di una forma più esatta che trova la sua logica nella produzione industriale e nella sfera sociale. Ma anche successivamente, Marianne rimane protagonista di questo laboratorio, le cui lampade entrano in produzione dal 1928, grazie all'accordo raggiunto tra la scuola e un'azienda tedesca. Il suo lavoro diventa l'unica fonte finanziaria della scuola, oltre alle opere di architettura. Questi prodotti col tempo diverranno molto famosi e una parte fondamentale della storia del design. Tant'è che molti sono ancora tutt'oggi in produzione e disponibili sul mercato. E sempre in quell'anno diventa direttrice del laboratorio del metallo. Anche perché a quel punto c'era una forza contrattuale impressionante, se lo facevano arrabbiare, toglieva le lampade alla produzione, cia cia o ba o aus, chiudeva baracca. Marianne Brant però non è solo una product designer. Sperimenta anche nell'ambito della fotografia, producendo una marea di foto e fotomontaggi. In questi autoritratti Marianne riesce a raccontare tutta la sua storia, ma va anche oltre, raccontando molto della sua indole, palesemente forte e indipendente. Questa foto rega mi fa impazzire, bellissima. Cosa vuoi dire? Perfetto. Cosa vuoi dire? Bellissima. Cosa vuoi dire? Complimenti. Product designer incredibile. Fai le foto che sono incredibili? Non lo so. Ci vuoi umiliare in altra maniera? Vuoi venire anche qui a farci il video? Non lo so. Guarda te. Marianne. Questo fotomontaggio poi è incredibile. Le linee erette tipiche dello stile grafico del Bauhaus collegano come fili di una marionetta, un uomo posto in alto e una donna in ginocchio. Nel mentre sono arrivati gli anni 30 e la situazione politica va peggiorando in Germania. Venne cambiata più volte la sede della scuola e molti insegnanti anche per ragioni economiche preferiscono lasciare la Germania. Ma tra questi non vi è certo Marianne che spacca il culo a tutti e rimane lì a finanziare la scuola e a insegnare. In tre anni la scuola prima passa nelle mani di Mayer e successivamente in quelle di Mie van der Rohe il quale sposta la sede a Berlino. Siamo nel 1933 e il partito nazionalsocialista prende il potere. E quanto pensate che possa durare una scuola di architettura, arte e design con vedute così avanguardistiche? Zero secondi. Che tristezza. A Marianne non resta che unirsi all'organizzazione nazionale nazista degli artisti cercando di mantenere per quanto possibile le distanze con il partito. Fino a che nel 1983 all'età di 89 anni Marianne muore lasciando a noi posteri una produzione artistica di altissimo valore che racchiude in sé un esempio di emancipazione. Che dire? Non mi resta che fare gli auguri a tutte le donne? No, non a tutte le donne ma a tutte le donne che ci seguono. Che dire? Non mi resta che fare gli auguri a tutte le donne? Ringraziarvi per tutti i likes che ci state lanciando addosso perché siete in 5 a guardare questa serie ma lo fate con molto affetto siete molto presenti con un sacco di likes quindi vi ringraziamo oggi Jacopo e Manny non sono potuti venire perché questo video lo sto girando l'8 marzo di mattina e adesso lo post produco in 5 secondi e lo sparo sul web il prima possibile cavoli però ci sono un sacco di foto speriamo bene se avete voglia magari condividete anche il video così magari allarghiamo un po' di più questa cerca di eletti interessati al design ti invito inoltre a consigliarmi l'argomento del prossimo video con un commento qua sotto grazie a tutti Grazie.